è la seconda volta credo lì mi portiamo un po' di keg ma sì, non lo portate quando li superiamo quindi vogliamo fare l'allianza di keg no, non so come le altre persone ma cosa ti divance ecco che tirava via eh, cosa ti rimane? niente se vi porti dei keg cosa li rimane? eh, vendite in 2 e me ne ho in 2 e mi perregg dai, prova a tenerla now ehi io vado in 4 e mi faccio una prova solo finisce nell'ancora hello! hello man, allora io durante un passaggio si, è il riso oh no, cosa sta scendendo? era un giallo e c'è Law, non stai scendendo no, sciono! Sì certo che sono affondati davvero, io sono rimasto da l'ora nella stiva, vivo. Cosa pensavi? E non lo so, non credevo li avessimo davvero affondati subito così, alla prima. Credevo riuscissero a tenerlo, cioè. Non con me, vivo nella stiva che hanno ucciso uno subito. Cop, cop.